Buonasera, buonasera e bentrovati a Passione Bianco-Rossa. Questa sera è il nostro gradito ospite, il centrocampista Bianco-Rosso Emanuele Gatto. Emanuele, buonasera e bentrovato. Buonasera, buonasera a tutti. Partiamo dal commento alla gara di domenica scorsa a mezzogiorno al Curi contro il Perugia. Una partita ben giocata da Sutirol, decisa però da un episodio a favore dei padroni di casa. Sì, peccato perché è stata fatta una bella partita. Siamo amareggiati per il risultato, non per la prestazione. Purtroppo sono partite che si decidono su episodi e purtroppo questa volta ci ha condannato un episodio. Che tra l'altro è arrivato dopo un periodo lungo, una mezz'ora in cui avevate tenuto in scacco il Perugia. Sì, direi quasi dominata, una varietà dominata perché loro non avevano mai tirato in porta mentre noi siamo arrivati più volte nei pressi della loro area. Peccato. Prima di vedere i riflessi filmati della gara del Curi, scorriamo i risultati della 32esima giornata e dei recuperi di ieri. Perugia, Sutirol 1-0, Feralpi, Salò, Gubbio 1-0, Legnago, San Benedettese 1-1, Triestina, Carpi 1-0, Virtus, Decom, Verona, Fano 3-1, Vispesaro, Padova 0-2, Arezzo, Imolese 0-0, Matelica, Fermana 5-1, Modena, Cesena 1-0, Ravenna, Mantua si giocherà il 31 di marzo. Per i recuperi di ieri, Feralpi, Salò, Cesena 0-0 e San Benedettese, Ravenna 0-0. Per una classifica che vede in testa il Padova a quota 67, Sutirol 62, Perugia 60, Modena 57, Triestina 51, Feralpi, Salò 50, Matelica 49, San Benedettese 47, Cesena 45, Bietos, Verona 44, Mantua 43, Gubbio 41, Fermana 36, Carpi 34, Vispesaro 33, Imolese 29, Legnago 28, Fano 27, Arezzo 24, Chiude Ravenna 21, due gare in meno per Cesena e Ravenna, una gara in meno per Perugia, Mantua, Gubbio e Fermana. Emanuele, mancano sei giornate al termine della stagione regolare, ci sono 18 punti in paglio, quindi i giochi sono ancora apertissimi in un girone in cui le emozioni e le sorprese sono pressoché all'ordine del giorno. Sì, sì, esattamente. Sei giornate in un campionato difficilissimo dove abbiamo visto che si possono perdere punti con tutti, dove tutti si giocano qualcosa, che sia un play-out, la salvezza diretta, un play-off, e quindi è importante continuare per noi a fare le nostre cose, guardare solamente noi e pensare a fare i più punti possibile. Andiamo a vedere ora i riflessi filmati della partita di domenica scorsa al Curi con il Perugia nel servizio confezionato dalla nostra redazione. Il big match del Renato Curi è tutto qui, nel gol segnato dal Perugia al 28esimo del primo tempo da Monaco. Un gol che ha deciso non solo la super sfida della 32esima giornata del Girone B, ma probabilmente anche le sorti della lotta al vertice con l'FC Alto Adige, che scivola a meno 5 dalla capolista Padova, quando al termine della stagione regolare mancano solo sei giornate. La migliore prestazione stagionale della squadra, la definirà mister vecchia fine gara, ha visto in effetti gli ospiti partire meglio, con la prima occasione già al nono con Casiraghi, che ben servito da Fischnaller spara fuori da buona posizione. L'FC insiste, per nulla intimorito, di giocare in uno stadio che ancora profuma di Serie A e al 25esimo Voltanna ci prova dal vertice destro dell'area, ma il tiro risulta centrale. Al 28esimo l'episodio, che decide il match, nasce da un calcio ad angolo per il Perugia. La palla arriva a Murano, la cui conclusione viene respinta da Poluzzi, ma proprio sui piedi di Monaco, che da due passi non può sbagliare. I grifoni, in sostanza, passano alla prima vera occasione. Ma l'FC non ci sta. Al 42esimo la squadra di Vecchi, ieri in maglia nera, confeziona il cross per la testa di Carice, ma la palla supera la traversa. Subito inizio ripresa, una mischia nell'area del Perugia viene risolta in angolo. L'Alto Adige continua a spingere, ma concede spazi. E al 12esimo una pericolosa conclusione di Kuan viene respinta da Poluzzi con i pugni. Al 14esimo bella traversone di Voltan, ma un difensore salva, rifugiandosi ancora in angolo. Al 28esimo, stesso minuto del gol nel primo tempo, i locali sfiorano il raddoppio con una manovra avvolgente, che porta Murano a tu per tu con Poluzzi, che si salva di piede. Resta ancora un quarto d'ora, ma il Perugia alza la sera cinesca e l'FC non ha più la forza di affondare e finisce con una sconfitta tanto amara quanto immeritata. La sconfitta del Curi fa precipitare l'FC a meno 5 dalla capolista Padova, vittoriosa 2-0 a Pesaro, mentre il Perugia si porta due lunghezze dall'Alto Adige, ma con una gara da recuperare. Domenica prossima le tre big saranno impegnate in altrettanti testa coda. Il Padova in casa con il Ravenna, il Perugia ad Imola, mentre l'Alto Adige riceverà il Druso Larezzo. E rieccoci in studio con Emanuele Gatto. Emanuele, al Curi è mancato solo il gol? Penso di sì, perché abbiamo giocato veramente bene contro una squadra forte, che per loro era una partita fondamentale, perché comunque così potevano rimettersi in gioco, altrimenti erano distanti dal secondo e dal primo posto. E peccato, perché abbiamo fatto davvero, penso, una grande partita. Forse è uno dei migliori primi tempi di quest'anno, penso. Andiamo a sentire il commento rilasciato a caldo in sala stampa da Mr. Vecchi. Abbiamo giocato una gran gara. Purtroppo si è stati penalizzati dall'episodio del loro gol. Ed è chiaro che in una gara in equilibrio come quella che è stata fatta oggi sono gli episodi che fanno la differenza. La fanno anche in partite meno equilibrate. Abbiamo giocato, credo, fino al gol a senso unico. Poi la partita è diventata un po' più in equilibrio. Ed è normale che contro una squadra forte come il Perugia si faccia fatica anche a creare delle situazioni pericolose. Le abbiamo avute, non le abbiamo sfruttate. Ma all'interno di una gara è di una prestazione veramente di alto livello. una prestazione che deve renderci orgogliosi di avere un gruppo di questo tipo perché venire a giocare alla pari con squadre di questo tipo vuol dire che stiamo facendo un lavoro veramente importante. A quel punto chiaramente dovevamo cercare di forzare la mano, cercare di mettere quei giocatori offensivi che potevano trovare la giocata. Purtroppo non l'abbiamo trovata. Merito anche della forza del Perugia, chiaramente. però noi abbiamo disputato indubbiamente una delle migliori partite della stagione. Finora il campionato è stato abbastanza equilibrato. Vedremo cosa farà il Padova. Noi continuiamo a pensare a una partita alla volta e cerchiamo di arrivare nella miglior posizione possibile. Poi vediamo se il campionato si riapre o no. E rieccoci in studio. Emanuele, cosa possiamo aggiungere alla disamina del mister? Com'è stata la partita vista dal campo? Ben giocata, ben giocata. Sempre abbiamo fatto quello che avevamo preparato con il mister. Abbiamo fatto delle belle giocate. Ci è mancato penso solo il gol. Ci fermiamo ora per qualche istante. Restate con noi per la seconda parte di Passione Biancorossa. Emanuele, cosa possiamo aggiungere alla prossima? Il primo novembre 1870, il grande incendio di Trento, Rione San Martino. 70 case furono bruciate. 2200 persone persero tutti i loro averi. 20 luglio 1904, il grande incendio di Baldaura di Mezzo. 36 case furono bruciate. 42 famiglie persero tutti i loro averi. I paesi furono ricostruiti grazie all'aiuto di Tirole Rassicurazioni. Tirole Rassicurazioni. Sempre vicini a te. A presto. A presto. Grazie a tutti. Il noleggio a lungo termine o tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine sparcasse auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. Qualità? BIM Weekend. Questa è la nostra mission. Per soddisfare tutte le vostre esigenze. F-Contract Bolzano. www.fcontract.com GS Group. È tra le poche imprese della provincia ad avere requisiti richiesti per la sanificazione da agenti patogeni e virus Covid-19. I nostri atomizzatori di perossido o di idrogeno ci permettono in breve tempo e ad un costo contenuto di ottenere un risultato che rispetta tutti i protocolli sanitari. Non esitate a contattarci per rendere i vostri ambienti salubri e sanificati. GS Group. Bolzano. Via Galilei 10H. www.globalservice.bz.it E rieccoci in studio. Prima di proseguire la nostra chiacchierata con Emanuele Gatto, andiamo a sentire il commento rilasciato del post-gara di Perugia dal tecnico dei padroni di casa Fabio Caserta. È stata una partita maschia, è stata una partita giocata a viso aperto come immaginavo anche prima della partita perché di fronte c'era una squadra forte che non a caso si trova in seconda posizione perché ha dimostrato e perché continua a dimostrare una squadra forte in tutti i reparti. Noi oggi devo fare complimenti ai ragazzi per la partita disputata, soprattutto per l'intensità, la voglia, la determinazione per riscattare il derby perché di fronte c'era un avversario difficile, volevamo a tutti i costi vincere. Oltre che fare i complimenti le voglio ringraziare perché avevo chiesto prima della partita di fare uno sforzo per me personale perché ci tenevo e perché non sono stati giorni facili. Quindi ringrazio veramente tutti loro perché hanno dato quel qualcosa in più che ho chiesto e li devo ringraziare. La svolta è stata quella di voler crederci dall'inizio fino alla fine, lottare palla su palla. Nei momenti difficili stare insieme, combattere insieme, nelle difficoltà i ragazzi sono stati veramente bravi. Dovevamo e potevamo chiuderla facendo il secondo, il terzo golle, anche oggi non siamo stati bravi da questo punto di vista, però ho visto la grande voglia e determinazione di portare a casa i tre punti. Significa una vittoria importante, è un cammino difficile, dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto oggi però dimenticare velocemente, godersi queste ore e poi da domani iniziare a pensare alla prossima. Credo che oggi la squadra abbia fatto una grande gara sotto tutti i punti di vista concedendo solo se non era un tiro il secondo tempo, un'azione fatta tra l'altro individuale, un giocatore forte, quindi abbiamo concesso poco o niente. Ripeto, potevamo chiudere, abbiamo avuto l'occasione per chiuderla, però questa squadra ha carattere, questa squadra nei momenti di difficoltà si è sempre rilassata. Perdere un derby, come l'abbiamo perso, non era facile reagire perché poi sappiamo e abbiamo avuto anche le difficoltà di riprendere non avendo neanche una settimana davanti per poter lavorare. Per questo faccio i complimenti e li ringrazio i ragazzi, perché oggi era veramente difficile, però sono contento della prestazione. Ripeto, adesso ci dobbiamo vedere queste ore e da domani si pensa alla prossima. Eccoci in studio con Emanuele Gatto, fin qui la disamina dell'allenatore del Perugia Caserta. È chiaro che il Sutirol resta la mano in bocca, questo era il punto di vista del tecnico del Perugia che comunque ha sottolineato quanto la gara di domenica sia stata difficile. Nel contesto generale, Emanuele, il Sutirol sta esercitando un ruolo importantissimo contro due corazzate autentiche come Perugia e Padova e questo non è poca cosa. No, anzi, penso che stiamo facendo un campionato importante e essendo là è giusto provarci, è giusto provare a fare più punti possibili e vedere cosa succede. Se il Padova le vincerà tutti, le vincerà tutte e proveremo ad arrivare a miglior piazzamento play-off, ma l'importante adesso è veramente fare più punti possibile e guardare solo noi stessi. Restiamo ancora per un attimo a Perugia e sentiamo le dichiarazioni a caldo del bianco-rosso Alessandro Malomo. Ce lo siamo detti da tempo e anche prima della partita con il minster. La cosa importante era continuare a dare appunto continuità di prestazione almeno. L'abbiamo fatto, sono orgoglioso della partita che abbiamo fatto. Andavamo a incontrare una squadra fortissima che l'anno scorso ha giocato in Serie B con quasi tutti gli stessi giocatori. Quindi abbiamo fatto secondo me la partita che dovevamo fare. Abbiamo pagato un episodio, loro sono stati più svegli di noi in quell'occasione. Però credo che abbiamo concesso poco e abbiamo creato anche un'occasione con Voltan che per un recupero incredibile di un loro giocatore non siamo riusciti a concretizzare. Però era la partita che dovevamo fare. Dà fastidio perché meritavamo sicuramente di più, però rimane comunque una grande prestazione. Finché la matematica non dice che non possiamo arrivare ai primi, noi ci proviamo naturalmente fino all'ultimo. Dispiaci per il risultato ma non per la prestazione. Ti ripeto, anche la prossima partita dobbiamo giocarla in questo modo. E poi vedere cosa fanno gli altri. Però secondo me siamo sulla strada buona e anche oggi abbiamo dimostrato che meritiamo di stare lì se non qualcosa in più. Quindi io sono soddisfatto della prova dei compagni. Purtroppo un episodio ci ha penalizzato come è successo anche in altre occasioni. Quello dobbiamo sicuramente migliorarlo. Domenica prossima Malomo e Calice saranno assenti per un turno di squalifica. Per la somma di ammunizioni Emanuele, questa squadra, questo gruppo ha costantemente dimostrato di dare il massimo con una compattezza davvero incomiabile. Sì, sembra una frase fatta ma veramente la nostra forza è il gruppo e penso che l'abbiamo anche dimostrato durante tutto l'anno che chiunque sia stato impiegato ha sempre risposto presente e l'ha sempre fatto in maniera egregia. è importante continuare così adesso. Obiettivo puntato ora sulla prossima gara, si guarda di partita in partita. Domenica Aldruso, Larezzo, un'altra gara di quelle da affrontare stando sul pezzo con la massima determinazione e concentrazione. Assolutamente, gara insidiosa perché loro sono un'ottima squadra, anche se la classifica magari dice altro, si stanno riprendendo, vengono da una buona serie di risultati e sarà fondamentale non sottovalutare la partita e fare del nostro meglio. Parliamo di te, come ti trovi in questa seconda stagione bianco-rossa? Bene, molto bene. Come mi trovo bene l'anno scorso e anche quest'anno il gruppo, bene o male, è gran parte lo stesso. Mi trovo benissimo con i compagni, con lo staff, qua si sta benissimo anche se purtroppo quest'anno la città non si può vivere, per ovvi motivi, mi trovo molto bene. Ti manca il pubblico lo stadio? Eh sì, decisamente. È un peccato davvero, soprattutto adesso con lo stadio nuovo sarebbe stato veramente bello e speriamo che i tifosi possano tornare il prima possibile allo stadio che tutto questo ce lo mettiamo alle spalle. Hai detto prima che non si può vivere la quotidianità come poco più di un anno fa, quindi anche voi siete costretti a stare costantemente in casa. Quali sono i tuoi hobby, le tue passioni nel tempo libero? Ma per fortuna siamo nella palazzina là, quindi bene o male ogni tanto riesco a vedermi con qualche compagno, se no mi guardo delle serie tv oppure gioco un po' la play. Quali sono stati i momenti più belli della tua carriera partendo dalle origini in maglia granata? Beh sicuramente il settore giovanile al Torino, per me che sono di Torino e tifo Torino è stata una bella emozione e soprattutto in primavera sono stato anche capitano, quindi è stata una bella trafila chiusa diciamo bene con quella faccia da capitano e poi diciamo la vittoria della Coppa Italia con l'Alessandria, Coppa Italia di Lega Pro e poi spero di togliermi soddisfazioni, prendermi una soddisfazione quest'anno dai, speriamo. Senti ma è vero che quando si indossa la casacca granata si prova un'emozione particolare? Sì assolutamente, poi ripeto se sei di Torino e del Torino come me e conosci la storia della squadra assolutamente ti dà qualcosa in più. Trasferiamo al sutiro il quarto d'ora granata. Sarebbe bellissimo. In chiusura andiamo a vedere insieme la tabella della volata per i posti che contano della classifica in maiuscolo vediamo le gare interne. Eccola qui. Allora la capolista Padova affronterà in casa Ravenna, Gubbio e San Benedettese in trasferta Triestina, Modena e Carpi. Il sutiro in casa Arezzo, Viotus Verona e Cesena in trasferta Legnago, Triestina e Vispesaro. Il Perugia invece che deve recuperare una partita incontrerà Imolese, Viotus Verona, Ravenna e Feralpi fuori casa e Triestina e Mattelica in casa. Mentre il Modena, Fermana, Fano e Viotus Verona fuori casa e Arezzo, Padova e Legnago tra le mura amiche. Insomma Emanuele una bella volata, ci sono 18 punti in palio. Eh sì, soprattutto come ho già detto in questo campionato dove può succedere di tutto penso che secondo me fino all'ultima giornata sarà ancora tutto aperto. Saluto a chi è costretto a vederci per forza di cose in remoto. Eh, vi mando un grande abbraccio virtuale ovviamente e invito a seguirci sempre sperando di vedervi presto allo stadio. Grazie, grazie Emanuele, grazie di cuore. Il nostro appuntamento termina qui. Ringrazio Paolo Savio, ringrazio la nostra regia e la nostra redazione. Un grazie anche a voi tutti per la cortesa attenzione e l'appuntamento con Passione Bianco-Rossa e come sempre per la prossima settimana alla stessa ora. Buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.